nuovo iphone nuova cover e nuova recensione anche se poi sostanzialmente di nuovo c'è veramente poco scopriamo insieme perché approfittiamo di questi ultimi spiragli di sole novembrino per mostrarvi più da vicino questa cover cover che come detto in precedenza è più o meno la stessa quindi a livello di design l'unica differenza è racchiusa in questa nuova apertura per le tre fotocamere e poi per il resto è la stessa l'antica cover stesso materiale stesso ottimo grip e stesso difetto della zona inferiore la zona inferiore anche questa cover viene completamente e inspirabilmente lasciato aperto esposto a urti e cadute e quindi anche per questa cover ci ritroviamo ad avere lo stesso identico design dei precedenti modelli è vero che l'iphone più o meno è lo stesso nel corso degli anni quindi anche cambiare cover non avrebbe avuto senso mettiamola così però ecco con con l'arrivo di questa di questa fotocamera posteriore ci saremo aspettati qualche novità maggiore uso il plurale perché il mio pensiero a quanto ho capito è condiviso un po da tutti in rete ci troviamo di fronte alla domanda conviene spendere 45 euro per questa questa cosa la risposta per me è no e no perché perché il design è lo stesso quindi oltre a lasciare esposto il telefono a urti e cadute quindi a proteggere poco a svolgere non completamente la sua funzione protettiva e anche un altro grandissimo difetto praticamente è lo stesso cioè tra questo è un iphone xs max con la cover non c'è praticamente differenza personalmente può essere una motivazione stupida però è una motivazione sufficiente per me per consentirmi di fare il reso io domani renderò questa cover perché onestamente spendere 45 euro quando in rete come avete visto anche sul mio canale ci sono soluzioni molto più economiche e molto più protettive passate nel mio termine sinceramente mi auguro che apple per il prossimo iphone anche con questo paventato cambio di design corra i ripari e presenti una nuova linea di accessori perché le cover sono le stesse nel corso degli anni sinceramente ci siamo un po stufati è vero che l'iphone è lo stesso quindi a livello di design non ci sono grandissime novità però ecco se devo spendere 45 euro mi aspetterei di avere un sostanziale upgrade sia nel design che nell'usabilità del telefono per il momento è tutto non mi resta che salutarvi e invitarvi a mettere mi piace iscrivervi insomma tutte le cosette che vi dicono quelli bravi per il resto un saluto e buon proseguimento di giornata era ci vediamo al prossimo video magari non buon proseguimento di giornata